E' stata scoperta una falla di sicurezza nei dispositivi Bluetooth che rende vulnerabile dati sensibili minacciando la privacy degli utenti di smartphone o tablet. A scoprirla è stato Daniele Antonioli, ricercatore scientifico pesarese, attualmente professore associato di sicurezza informatica ad Eurcom, centro di ricerca che si trova in Francia nella città di Sofia-Antipoli. La falla è stata etichettata come BLEF, acronimo di Bluetooth Forward and Future Secrecy, ed è una scoperta con intuibili ripercussioni tecnologiche a livello internazionale come presentato nei giorni scorsi da Antonioli a Copenaghen. Con questa scoperta abbiamo isolato dei nuovi problemi di sicurezza che permettono di intercettare il traffico scambiato dai nostri dispositivi Bluetooth e anche modificarlo. E ovviamente questo traffico può contenere dati sensibili, non so come i nostri numeri di una carta di credito, i nostri numeri di telefono e quindi è un rischio di sicurezza molto importante, anche perché essendo una falla che colpisce lo standard Bluetooth, il documento che descrive come funzionano queste comunicazioni, questa falla poi è presente in tutti i dispositivi, indipendentemente da chi ha creato il dispositivo. Quindi parliamo dei nostri iPhone, telefonini Android, i Mac, i computer Windows, quindi indipendentemente da chi ha sviluppato il dispositivo, l'attaccante può compromettere questo dispositivo. Scoprire la falla ha permesso anche di impostare un lavoro su nuovi anticorpi di sicurezza da applicare ai dispositivi. Abbiamo sviluppato anche poi dei meccanismi di sicurezza migliorati per potersi proteggere da questi nuovi attacchi e questi meccanismi di sicurezza li abbiamo proposti al consorzio che gestisce lo standard Bluetooth, che si chiama Bluetooth SIG, che in parole povere è un consorzio di aziende che gestiscono la tecnologia, tra cui troviamo anche Google, Microsoft, Apple, Intel e noi abbiamo detto come risolvere i problemi e adesso stiamo aspettando di capire cosa hanno implementato i produttori dei dispositivi.